Tutto pronto per il grande spettacolo del derby abruzzese del Girone F di Serie D, l'Aquila Chieti, che il Rete 8 trasmetterà in diretta e in esclusiva con apertura dei collegamenti nel pregara dalle ore 14. Oltre 4.000 spettatori previsti domani sugli spalti al Gran Sasso d'Italia, 500 quelli di Fede Neroverde. I padroni di casa con un solo dubbio alla vigilia, la presenza o meno di Uali ancora alle prese con i fastidi di una botta rimediata contro il Matese. In casa teatina dubbio Vesi in difesa, possibile esordio per l'ultimo acquisto castellano. Iezzo non ha ancora fatto trapelare nulla sulla formazione iniziale, ma molto dipenderà dalla scelta degli under. L'arbitro del derby sarà Bortolussi di Michelino, assistenti Cufari e Mititelu di Torino. Sul nostro sito www.rete8.it il doppio ex Giovanni Pagliari, attuale allenatore della Re Canatese, ha presentato per noi la sfida. Ho ricordi meravigliosi delle due piazze che meriterebbero entrambe l'AC, ha detto. Le seguo con attenzione ogni settimana e con affetto. Un pronostico impossibile, due squadre forti costruite per vincere il campionato. Sarà sicuramente una partita bellissima con una cornice di pubblico già degna del calcio professionistico. Come si decide questo derby? Giocando bene a calcio. Ormai in D si vince con la qualità e non contano più i fattori ambientali o il fattore campo. I due tecnici, uno ha già dato la sua impronta Cappellacci, l'altro è al debutto Iezo, ma entrambi vorranno vincere una partita così importante. Le altre due abruzzesi del girone F, Avezzano e Notaresco, giocheranno rispettivamente in casa contro il Real Monte Rotondo e in trasferta contro la Vigor Senigallia.